Questo martedì la cerimonia di insediamento al Cremlino del presidente russo Vladimir Putin al suo quinto mandato alla guida del paese. Conclusa la visita di due giorni in Francia di Xi Jinping, tra i temi al centro del bilaterale con Macron, un cessato il fuoco globale durante le Olimpiadi. Gaza, Israele bombarda la parte est di Raffae e prende il controllo del valico con l'Egitto. Poco prima il no alla proposta sul cessato il fuoco accettata da Hamas. Questo martedì al Cremlino si celebrerà per la quinta volta l'insediamento alla presidenza russa di Vladimir Putin alla guida del paese per altri sei anni. Secondo gli analisti le elezioni di metà marzo in cui Putin ha ottenuto l'87% dei voti sono state le più inique della storia moderna della Russia. Le stime dei brogli vanno da almeno 22 milioni a quasi 32 milioni di voti anomali senza considerare il voto elettronico e quello ottenuto illegalmente nei territori occupati in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha reso noto l'elenco degli ospiti stranieri presenti alla cerimonia, ma sappiamo del netto rifiuto di partecipare da parte degli stati baltici, della Repubblica Ceca, del Canada e del Regno Unito. Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato l'offensiva nel Donetsk, mentre l'Ucraina sta sperimentando una carenza di uomini e munizioni. Secondo gli analisti il Cremlino vuole accontentare l'opinione pubblica interna e catturare la strategica Chasiviar in tempo per il giorno della vittoria, il 9 maggio. Intanto non si è fermato il bombardamento delle regioni russe di confine da parte di droni e missili ucraini. Come prevede la Costituzione russa, dopo il suo insediamento Putin dovrà rinnovare il gabinetto di governo. Il Presidente potrebbe riconfermare l'attuale Primo Ministro e i membri chiave dell'esecutivo, tra cui il Ministro della Difesa Shoigu, o fare nuove nomine per continuare la militarizzazione dell'economia russa. Gli esperti ritengono che ora che Putin ha altri sei anni al potere, il governo potrebbe adottare misure impopolari, come aumentare le tasse per finanziare la guerra e arruolare più uomini. Conclusa la visita di due giorni in Francia del leader della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, che ha incontrato il Presidente francese Emmanuel Macron e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Tra i temi al centro del bilaterale tra Xi e Macron, un cessato il fuoco rapido e il ritorno della pace in Europa, a sostegno di una soluzione politica della crisi in Ucraina. Tra i temi al centro del paese di un'economia che in Europa sta inattornizzare la nostra soluzione politica della società. Tra i temi al centro del deporte, ci sono un'economia che non è un'economia che attraversa. Ma direzione di un'economia verrà la presa di un'economia russa. La loro scoperta di un'economia di un'economia di l'economia, che ha incontratto a il mercato di un'economia russa. But after what the Chinese leader qualified as fruitful talks, along with French President Emmanuel Macron, it seems like Beijing is ready to spare the French cognac industry. Indeed, China had threatened to impose very strict tariffs on this very important product for both countries after the EU launched a series of investigations against what they say are market-distorting practices by Beijing, like, for example, flooding the EU market with very cheap electric vehicles. Another very important subject this Monday evening on the table that was discussed, Russia's invasion of Ukraine. President Macron welcomed China's commitment to refrain from selling any more technology that could help Moscow in its war against Ukraine. It also thanked Beijing for supporting its idea of an Olympic truce for all conflicts during the upcoming Paris Summer Olympics. However, it is important to note that not once did Xi Jinping condemn Moscow's full-scale invasion of Ukraine, which was one of Macron's main goals this Monday evening. And after France, Xi Jinping will travel to Moscow-friendly nations such as Hungary and Serbia. And this itinerary is clearly sending a message as the EU is still figuring out whether China should be considered as a strategic partner or as the US tends to view this nation a dangerous rival. Sophia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Nelle prime ore di martedì le forze di difesa israeliana hanno preso il controllo del valico di Rafah, ormai il principale canale per l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, ora bloccati dal lato egiziano. Lunedì sera Israele aveva iniziato a bombardare massicciamente il valico e la parte orientale della città più meridionale di Gaza, dove si rifugiano circa 1,4 milioni di palestinesi. Già in tarda serata erano stati avvistati carri armati israeliani a avvicinarsi alla città. Solo poche ore prima gli abitanti di Gaza stavano festeggiando il Sidi Hamas a una proposta di cessate il fuoco. Ancora prima delle bombe a spegnere l'entusiasmo generale l'annuncio da parte dell'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La proposta di Hamas sul cessate il fuoco non soddisfa le richieste essenziali di Israele e le operazioni a Rafah continueranno. Tel Aviv però non ha chiuso a ulteriori negoziati annunciando l'invio di una delegazione in Egitto per discutere i termini di una nuova proposta che non venga anacquata dal gruppo radicale palestinese che spinge per un cessate il fuoco permanente che impedirebbe a Israele di completare l'offensiva terrestre con Rafah. Gli Stati Uniti continuano a opporsi alle operazioni chiedendo a Israele un piano credibile per proteggere i civili. Giusto lunedì mattina l'esercito israeliano aveva ordinato a circa 100.000 persone di evacuare i quartieri orientali di Rafah. L'esercito di evacuazione per l'Ost-Rafah solo avvicinare i civili. Sono stati instruzati a riloggiare al Masawi che è già overcrowaduto e lacking servizi di sicurezza e essenziali di umanitarie. La evacuazione massima a questa scala è impossibile di portare sicuramente. Migliaia di israeliani hanno reagito alla notizia del rifiuto della proposta di cessate il fuoco scendendo in piazza in tutto il paese per chiedere al governo un sì all'accordo per rilascio degli ostaggi. Circa mille persone si sono radunate presso il quartier generale militare di Tel Aviv mentre un centinaio di manifestanti hanno marciato verso la residenza di Netanyahu a Gerusalemme. L'Unione Europea ha ospitato un forum sulla difesa con l'obiettivo di collegare l'industria militare ucraina al resto dell'Europa. Si è discusso dello sviluppo della produzione interna per abbattere i costi di trasporto e per avere armi disponibili laddove sono più necessarie. Negli oltre due anni di invasione russa Mosca ha colpito principalmente le capacità industriali ucraina per indebolire il paese. Europea dovremmo poter produrare in vostro territorio, come ho detto, per salvare costi, per ridurre i tempi di trasporto e per essere più vicini ai vostri necessità. Questo è quello che chiamiamo 140 firmi che venivano e discutono. Sono qui per trovare mani come possiamo collaborare con le industrie europee. Il forum nella sua terza edizione fa seguito alla proposta di una strategia di difesa europea che ha l'obiettivo di preparare il settore militare a ogni evenienza dopo il riaccendersi dei conflitti nel continente. Inizia questo martedì l'Eurovision Song Contest a Malmo. Per tutta la settimana è massima allerta per le strade della città svedese, dove sono stati dispiegati centinaia di agenti di polizia armati provenienti da tutto il paese e persino dalle vicine Danimarca e Norvegia. Un rapporto interno della polizia ha evidenziato le potenziali minacce alla sicurezza dell'evento, tra cui gli attacchi informatici e i possibili disordini durante le proteste pro-Palestina. Inoltre il rapporto definisce la Svezia obiettivo primario del terrorismo islamico. A Valencia in Spagna l'estrema destra europea punta a conquistare il voto degli agricoltori alle elezioni europee di giugno. Una piattaforma di una dozzina di organizzazioni chiamate a 6F chiede la fine del Green Deal dell'UE, ossia degli impegni sul taglio delle emissioni inquinanti e sulla lotta alla crisi climatica. Il settore agricolo spagnolo, sceso in piazza come in tante altre parti d'Europa, chiede anche protezione dalla concorrenza di paesi terzi. Sebbene 6F si dichiari un movimento indipendente e non chiedere a voti per un partito specifico alle prossime elezioni, alcuni dei gruppi che vi partecipano a livello europeo sono vicini alla destra radicale. Vari candidati in Spagna provano a contendere il voto rurale al partito di destra Vox, ma le principali associazioni agricole hanno scelto di non intervenire nelle elezioni. L'associazione SOS Rural ha più di 500 organizzazioni agricole affiliate. La sua strategia è di influenzare i partiti affinché includano le sue richieste nei programmi elettorali. Nonostante le assonanze, SOS Rural sembra avere preso le distanze dalle idee più radicali della destra di Vox. Tuttavia, secondo gli analisti, le proteste contro le politiche agricole dell'UE favoriscono gli ultraconservatori. Chi conquisterà i 700.000 agricoltori spagnoli? Il loro voto potrebbe essere decisivo nelle prossime elezioni europee.